Allora ragazzi, io sarò ripetitivo, sarò molto 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 ripetitivo, sarò molto molto ripetitivo, ma al termine di queste partite qua io ho bisogno veramente di almeno un'ora prima di assimilare il tutto, cioè mi serve veramente un attimo di tempo perché ce l'ho ancora tutto qua, ma mi sembra di averla giocata io, sono quelle cose che ci entri in simbiosi, ti fondi con queste robe qua e ce li ho qui, quindi io perdonatemi, non ho ancora assimilato il fatto che abbiamo fatto tre punti, questo momento qua non l'ho ancora assimilato, lo capirò probabilmente domani mattina o tra un'ora, tra due ore, quando guarderò con un po' più di serenità la classifica e dirò, oh cavolo, adesso è una cosa differente, i tre punti sono meravigliosi, meravigliosi, perché questa sera avevo veramente paura di non portarli a casa, ma non dall'inizio della partita, da prima, da prima, io stasera ho detto, cavolo, portarsi a casa questi tre punti sarà molto complicato, sarà molto difficile, questa è stata una partita strana, io provo a riassumervi quello che ho visto, poi ditemi se anche voi avete visto questa cosa qua, la Juve che non parte bene nei primissimi minuti, non parte bene, e già lì ho detto, cavolo, come l'abbiamo approcciata a sta partita, come la stiamo vivendo, poi abbiamo la fortuna di ritrovarci con un'occasione colossale che è un calcio di rigore, lo sbagliamo, sulla ribattuta non ci crediamo, ne esce un calcio d'angolo e fortunatamente Rabiot con la fascia di capitano al braccio la butta dentro, perché in quel momento lì della gara poteva complicarsi terribilmente il tutto, poteva rendersi tutto più difficile, con il calcio di rigore sbagliato, con la pressione psicologica del rigore sbagliato, con la pressione psicologica di una partita che vale il primato, avevo veramente paura che potesse farci male quel rigore sbagliato da Blaovic, quel gol di Rabiot è stato meraviglioso, potentissimo, un'aura incredibile, in quel gol di Rabiot avevo veramente un'aura meravigliosa, e poi la Juve è rimasta così, bassa, passiva, è rimasta lì ad aspettare il Monza, che ha stradominato il possesso palla, senza mai creare delle vere e proprie occasioni, perché al termine del primo tempo la Juventus aveva il rigore sbagliato, il calcio d'angolo di Rabiot su cui si è fatto gol, un calcio d'angolo ancora, dove c'era la possibilità di fare il 2-0, dove non l'hai fatto, perché Alexandro con una torsione meravigliosa era andato a servire Gatti che sulla linea l'aveva buttata fuori, era il più facile probabilmente fare gol che sbagliarlo, quel gol, ha fatto il difensore per il Monza Gatti in quell'occasione, e io lì, e io lì, e io lì, ho detto cavolo, spero di non andare a letto chiudendo gli occhi e ricordandomi di quel gol sbagliato da Gatti sulla linea, perché avevo un po' capito che tipo di serata poteva venirne fuori, e poi abbiamo avuto un'altra occasione che una rimessa lunga con le mani di McKennie era Biot che era fuori aria a tira e di Gregorio ci va in bagger, questo è stato il primo tempo in cui il Monza non aveva fatto niente e la Juventus aveva fatto quel qualcosina su azioni da calcio da fermo, i primissimi minuti, i primi 2-3 minuti del secondo tempo invece ho visto una Juve che cercava di tornare in campo con un riflesso differente rispetto a quello della prima frazione, poi è durato veramente troppo poco, 2-3 minuti, e poi è tornato ancora una volta in carica al Monza, è salito ancora una volta in catte dal Monza, e la Juve è sempre lì, sempre bassa, sempre passiva, sempre a non voler uscire da quel blocco, sempre lì a difendere quel blocchettino centrale negli ultimi metri, con il Monza che giocava su 70 metri e la Juve è su 30, 75-25, una roba del genere, la Juve è sempre lì, sempre bloccata, sempre 10 dietro al pallone, per cercare di fare densità, e funziona dal punto di vista difensivo, perché davvero il Monza non crea occasioni, io non so quanti tiri in porta abbia fatto il Monza, ora proviamo a vedere, proviamo a darci un'occhiata alle statistiche finali, quanti tiri in porta avrà fatto il Monza? Uno, ha fatto uno, e la Juventus invece ne ha fatti sette, e ribadisco, le macro occasioni sono della Juve, se andiamo a leggere le statistiche, sette tiri in porta uno, però c'è tutto il resto dentro, perché la Juve ancora una volta si è rifiutata di andare a fare il secondo gol, se non, oh cavolo, magari mi viene fuori appunto da una situazione di calcio d'angolo, e si è rimasti lì, e si è rimasti lì, e si è rimasti lì, e guardavamo, aspettavamo, e guardavamo, aspettavamo, e difendavamo, e io sono stato tutto il tempo a pensare a quel gol sbagliato da gatti, e continuavo a dirmi nella mia testa, vuoi vedere che, vuoi vedere che, vuoi vedere che, e poi quel gol di Carboni mi ha distrutto, mi ha veramente distrutto quel gol di Carboni, perché ha detto, beh, è la serata che deve andare così, è la serata in cui ti torna dietro il fatto che ti sia accontentato, tu ti sia voluto fermare, tu abbia gradito semplicemente avere un gol di vantaggio a difendere, l'hai difeso, ma quando c'è un solo gol di vantaggio può esserci un rimpallo, può esserci un rigore, può esserci il terreno scivoloso come stasera perché ha piovuto tanto e c'era un acquazzone, può esserci una scivolata di un giocatore proprio per via del terreno, può esserci qualsiasi cosa, e può esserci un cross dalla tre quarti in cui nessuno la becca e la palla finisce dentro, classico episodio, che non è neanche considerabile tiro in porta per il Monza, un Monza che comunque stava sempre pernemente dentro l'area della Juve, e la Juve accettava questa cosa di difendere dentro l'area, e alla fine un certo tipo di situazione, la palla va dentro e il risultato è di 1-1, non è più il risultato di vantaggio, il risultato di parità, e lì Dio solo sa quante imprecazioni sono volate nella mia mente, perché era una partita troppo importante, troppo fondamentale, troppo prestigiosa per quella che doveva essere il peso della classifica questa sera, troppo determinante per quello che sarà l'impegno dell'Inter al Maradona di domenica, non di sabato, come ho detto oggi nel video, ma io tutt'oggi che ho in testa che è sabato, perché gioca la Juventus e il venerdì non sono abituato a vederla, la Serie A e nemmeno la Juve, quindi è tutt'oggi che penso che sia sabato, però domenica c'è una partita molto importante per la Juve, per la Juve, e ora la Juve questa partita l'ha vinta stasera, perché poi c'è stata quella reazione lì, e quella reazione lì mi fa tanto godere, ve lo devo dire proprio sinceramente, mi fa tanto godere quanto arrabbiare, perché mi fa veramente capire che ci basterebbe veramente quel poco in più, per cercare di non soffrirle così queste partite, di non arrivare fino all'ultimo, e magari non ritrovarci in queste situazioni scomode, perché in questo momento ci sta andando tutto bene, è un periodo super positivo questo, super positivo, anche lungo, periodo lungo e super positivo, la sensazione che ho guardando questa partita è però che questo periodo non possa durare, e che anzi al primo passo falso poi sarà difficile rimettere nei binari tutta questa situazione, mi auguro che possa continuare almeno fino al termine della stagione, e che la Juventus possa veramente giocarsi questo scudetto, non dobbiamo avere paura di dire la parola scudetto perché cavolo, adesso siamo primi, adesso è l'Inter che ci deve far vedere se vuole rimanere davanti oppure no, cioè è inutile girarci intorno, possiamo illuderci, possiamo prenderci in giro, dirci quello che vogliamo, adesso in questo momento la situazione è questa qua, stop, però dobbiamo vedere quanto ancora riusciremo a rimanere lì, perché queste prestazioni qui non sono sufficienti per una squadra che vuole vincere lo scudetto, non prendiamoci in giro, non lo sono, non sono sufficienti queste prestazioni qui, queste partite qui non lo sono, assolutamente no, e dobbiamo imparare dalle partite di questa sera in cui ci torna indietro il fatto di esserci accontentati, sì ci è tornato indietro, l'abbiamo sentito sulla nostra pelle lì, abbiamo detto cavolo questa partita non la vinciamo, perché ci siamo accontentati e quindi l'episodio poi può arrivare ed era arrivato, e poi tanto che parlavamo e quindi dobbiamo prenderci questa roba qui, a maggior ragione perché poi ci è andata bene, perché parlavamo del gol di Gatti sbagliato, sbagliato no? Del gol di Gatti sbagliato, Gatti lo ha sbagliato ancora dopo, però la palla è rimasta lì, perché davvero ci è bastato poco scendere una volta sulla fascia e mettere una palla a rimorchio, cioè l'ABC del calcio e credo l'azione standard del calcio materiale del lunedì sera di quando vado a giocare a pallone, perché? Perché è la cosa più semplice del mondo, vai sulla fascia e metti il pallone dietro, sul dischetto dell'area di rigore, e Gatti l'aveva sbagliato ma poi la palla è rimasta lì e allora ha caricato una fucilata di rabbia, di nervoso, anche di frustrazione probabilmente per quel gol del raddoppio sbagliato, di quel 2-0 sbagliato, era buttata dentro, ha sfondato la porta e quanto mi ha fatto godere Federico Gatti in quel momento lì, oh mamma mia, è direttamente proporzionale al numero di bestemmie tirate per il gol di Carboni, anzi forse l'ho raddoppiato direttamente al proporzionale ma raddoppiato quella godura di quel gol di Gatti lì, perché quel gol di Gatti lì è quel gol che alla fine dell'anno lo vai a contare, guardi i punti e dici quei punti lì e questa giornata qui è quel gol di Gatti lì, quel gol di Gatti lì può entrare nella storia della Juventus, per farlo però dobbiamo migliorare, ma migliorare davvero, non migliorare per dircelo, non migliorare come facciamo conferenza stampa, sì c'è da migliorare, c'è da crescere, bisogna migliorare davvero, ma mica, ma guardate ma nemmeno nello sviluppo del gioco, la Juve è una squadra che non vuole fare sviluppo benissimo, la Juve è una squadra che tira meno, benissimo, però la mentalità, la mentalità che un gol non è sufficiente, quello non è un discorso di giocare bene, di giocare male, di lo puoi fare con determinato giocatore, no lì è proprio accontentarsi, sono cose diverse, cioè lì non è un discorso di come sviluppi l'azione per andare a concludere, no lì è proprio un discorso di accontentarti, questa roba non può esistere, questa roba te la devi togliere, no, non puoi accontentarti, no non lo puoi fare, perché al 91esimo l'episodio che ti punisce perché ti sei accontentato, non ti torna sempre bene il fatto che poi Rabiot va, mette la palla dietro, Gatti la svirgola la palla rimane lì, non finisce sempre in goduria, non lo dice Luca Toselli, lo dice il calcio, lo dice la storia del calcio, lo raccontano le partite di pallone, che non è sempre scontato subire gol al 91esimo e segnare un altro gol al 93esimo, non è scontato, quindi dobbiamo veramente essere felici stasera del risultato, di come è arrivato questo risultato, perché all'interno di una partita non noiosa, chi se ne frega, si è stata noiosa, mi sono annoiato per tutta la partita, mi sono svegliato negli ultimi minuti, quelli sono stati i momenti veramente clou della partita, per il resto della partita ho visto poco e niente, da parte io e da parte del Monza, non è stata bella, non è stata divertente, non prendiamoci in giro, è una partita che non è stata approcciata nel modo che deve approcciarla una squadra che al secondo posto in classifica gioca per prima e dopo deve aspettare un big match contro una probabilmente quella che è l'unica squadra ormai che è rimasta all'Inter affrontare in questo giro d'andata che sulla carta ti può far dire oh potrebbe perderci dei punti, non mi è piaciuto l'approccio della Juve, non mi è piaciuto né all'inizio né durante il vantaggio, non mi è piaciuto e poi dopo c'è la rabbia, dopo viene fuori la rabbia perché la Juventus è una squadra nervosa, potete girarci intorno alla Juve, è una squadra fatta di nervi, questo momento si sta andando perché c'è unità di intenti e in questo momento va tutto bene, tutto incastrato bene, tutti remano nella stessa direzione, tutti vogliono arrivare a quello scopo, a quell'obiettivo, quindi tutti sono contenti di seguire quella strada lì, ma sono queste le situazioni in cui se poi qualcosa non va bene c'è una partita storta poi questa roba, te la può disintegrare, te la può veramente mandare in frantumi e ho avuto il terrore che potesse essere Monza-Juve perché quel gol di Valentin Carboni poteva veramente distruggere mica solo questa partita, mica solo la speranza di una classifica messa bene, ma proprio quello che sarebbe poi venuto dopo questa gara qua, perché poi magari l'Inter diceva sì la Juve ha pareggiato lì, allora può tirar fuori anche delle energie nascoste e allungare su una giornata in cui sulla carta sei tu invece che devi fare il sorpasso anche perché la prossima c'è il Napoli, quindi magari ci sarà già un controsorpasso forse, chissà, non lo so, non ho idea, vedremo, la sensazione però è questa, che questa squadra qui non lo possa vincere, perché è impossibile che ci si possa fare altre cose che abbiamo fatto, 14-24 giornate in cui le vinci queste partite qui sempre e fai punti sempre così no, non li puoi fare, vi dico la verità, poi non so se siete d'accordo con me, mi ha lasciato di più la partita con l'Inter rispetto a questa vittoria, questa vittoria mi lascia più rabbia che fiducia, il primo tempo con l'Inter mi ha lasciato fiducia, il secondo tempo non mi è piaciuto, lo sappiamo, si sono accontentati, non ho voluto giocare né una né l'altra, però il primo tempo con l'Inter mi è piaciuto l'approccio, questa partita qua mi lascia dei punti di domanda, degli interrogativi, così come mi ha lasciati quella col Cagliari prima della sosta, cioè il primo tempo con l'Inter mi fa dire cazzo e mi fa dire cazzo anche la reazione al gol che abbiamo subito gli ultimi minuti, veramente ci andiamo lì sempre stretti e bottonati, ne basta uno? No, non ne può bastare uno, non ne può bastare uno, non ne può bastare uno, poi questa vittoria sarà veramente un'iniezione di adrenalina meravigliosa, perché lo sarà, perché arriva nella difficoltà, nell'emergenza degli ultimi secondi, degli sgoccioli e quindi sarà meraviglioso viversi e ripensare magari a queste vittorie sul lungo, sul lungo, perché ripeto il gol di Gatti può veramente entrare nella storia della Juventus, può veramente farlo, però stasera faccio un po' fatica ad essere entusiasta, gasato di questa partita, sono entusiasta del gol all'ultimo secondo perché cazzo quanto pesa sta vittoria qui, cazzo quanto, quello lì sì, quello mi fa stragodere e guardare la classifica sarà meraviglioso fino al fischio di inizio di domenica, deve maradona, però questa partita devi insegnarci tanto, se questa partita non ci insegna niente è un problema, forza Juve, dai cazzo, una vittoria che ci voleva e che non pensavo potesse arrivare, bene 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 il risultato, impariamo però da queste robe qua, sarà tutto inutile, ciao